Il tema di sicurezza nel lavoro è molto importante in Italia, così è l'energia di conservazione. Le società hanno lavorato per incontrare i nuovi standard europei. Per aiutare in questa fase del delicato di transizione, c'è l'Aerotecna. Quale è l'Aerotecna? Quali servizi offrivi? L'Aerotecna è una società di ingegneria. Nasce circa dieci anni fa dalla volontà dei soci fondatori che hanno iniziato un'attività lavorativa con l'università di mettersi insieme per offrire dei servizi unici alle aziende, unici nel senso particolari, cercando di offrire qualcosa in più rispetto alla concorrenza. Sostanzialmente l'Aerotecna si occupa infatti di quelli che sono i settori che in effetti sono stati da sempre la vocazione professionale dei due soci fondatori. Io mi occupo di sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi progettazione di un ambiente di lavoro che sia sicuro e che possa prevenire gli infortuni per quanto riguarda appunto la vita dei lavoratori. Il mio socio si occupa invece di risparmio energetico, quindi analisi studio dell'efficientamento energetico di edifici, di stabilimenti, quindi monitorando attraverso sovralluoghi quelle che sono le criticità e quelle che sono magari i punti di forza nei consumi energetici aziendali. Eerotecna offre questi servizi con un vantaggio competitivo, che è quello di offrirli attraverso un incentivo statale. Quindi in realtà i servizi che noi andiamo a erogare non vengono pagati per intero dalla clientela, ma vengono pagati in parte perché vi è l'intervento di un aiuto di Stato. Questo in particolar modo nel finanziare l'adeguamento delle aziende alle normative di sicurezza in luoghi di lavoro. L'azienda a cui noi ci rivolgiamo è prevalentemente piccola impresa, diciamo in base alla definizione della Comunità Europea parliamo di micro impresa e di piccola impresa. Però non disegniamo di operare anche per la grande impresa. Alla grande però offriamo dei servizi di nicchia particolari. Assolutamente no. Uno di questi servizi è la certificazione del sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro che segue uno standard internazionale che è l'OSAS 18000. Già il fatto appunto che parliamo di una normativa internazionale ci fa comprendere che il nostro ambito è anche quello della grande impresa ed è anche quello di un'impresa di una multinazionale che ha sedi in Italia o anche di aziende italiane che magari hanno sedi all'estero. E quindi imprenditori stranieri che sono allocati in Italia o che si stanno allocando in Italia è importante che sappiano che esiste uno strumento finanziario a loro disposizione per ottenere la certificazione OSAS 18000. This is an important and competitive market. What is unique about your company? Leotecna è altamente flessibile. La flessibilità è data soprattutto da tanti consulenti che orbitano attorno a noi e che operano per noi che ci consente di dare un servizio sempre customizzato. Which direction do you think is most interesting for developing your company? Leotecna deve sicuramente perseguire questo discorso di seguire le aziende nel riuscire a monitorare degli strumenti finanziari che le aiutino e la supportino nel potersi migliorare in termini di impianti, di strutture, di macchinari e questo contributo appunto all'incentivo INA di cui ci occupiamo sicuramente va in questa direzione. Un incentivo strutturale non esistono in Italia oggi, la possibilità di ripeterlo ogni anno, quindi ogni anno l'azienda ha la possibilità di migliorare le proprie dotazioni in termini appunto impiantistici, strutturali e di macchinari. Lo sviluppo del business in Deo Tecna quindi deve essere questo, quello di andare incontro alle esigenze del cliente e cercare di creare una rete nazionale su questo discorso degli incentivi alle imprese per la prevenzione di infortuni perché ne abbiamo l'esperienza per farlo e perché riteniamo che la presenza almeno in ogni regione italiana possa sicuramente far crescere il volume del nostro business. Le protecna attraverso questi servizi che offre, ripeto, quello dell'efficientamento energetico degli edifici e degli stabilimenti, lo studio degli spam energetico attraverso software potenti, la possibilità di avere degli incentivi per prevenire gli infortuni nelle aziende, quindi la sicurezza nei luoghi di lavoro, sono tutte attività che noi facciamo ovviamente con dei testi legislativi che regolamentano queste attività, che sono nella maggior parte dei casi dei testi che provengono da direttive comunitarie. Quindi in conclusione sicuramente il nostro intervento, visto che segue dei servizi che sono legiferati da direttive comunitarie a un ambito che può essere sicuramente extranazionale.